Bene, ma cos'è l'energia potenziale gravitazionale? Iniziamo da un esempio intuitivo. Se lasciamo cadere da due metri da terra una pallina da tennis, si muoverà a poco più di 6 metri al secondo prima di toccare il terreno. Lasciata cadere da un'altezza di 15 metri, la stessa pallina quasi raggiungerà i 17 metri al secondo prima di rimbalzare a terra. Ricordate, avevamo descritto l'energia come una sorta di voglia di muoversi che gli oggetti hanno. L'energia cinetica, ad esempio, è ben rappresentata da un treno in corsa.